cari amici di vox italia tv benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento vi presento l'ospite che ho il piacere di avere in collegamento c'è franco fracassi ciao franco salve a tutti quanti scrittore giornalista pensatore insomma che più ne ha più ne metta con franco tempo fa abbiamo discusso di uno dei suoi molti libri che dei suoi tanti libri protocollo contagio un libro dove si ricostruiva in maniera molto precisa la filiera che c'era dietro il laboratorio di one e si arrivava proprio ad una strana ong eco hilt alliance una cosa del genere dietro la quale si intravedeva la sagoma dei soliti colossi finanziari a partire da black rock ecco il mainstream arriva sempre con un po di ritardo per oggi ci è arrivato guardate questo articolo sul repubblico dice dubbi americani sulla missione dell'oms a one e scontro con pechino e all'interno si raccontano i dubbi di questo scienziato di un certo da azac una cosa del genere che proprio a capo di questa ong che dice non vi fidate degli americani gli americani sbagliano tutto ecco che cosa sta succedendo franco tu hai le chiavi per capire cosa cosa si nasconde dietro queste chiavi direttamente dietro questi racconti innanzitutto questo è l'argomento del mio prossimo libro che sto scrivendo ma non ti fermi mai tu proprio lo so che si intitolerà i misteri di wuhan che tratta esattamente di questo allora d'asta che è un personaggio dire controverso e poco e è uno scienziato è uno di quegli scienziati che secondo me finirebbe bene un film nel senso che è uno scienziato che da 15 anni porta avanti le sperimentazioni che si chiamano gain on function che sono sostanzialmente delle alterazioni genetiche dei virus per renderli molto più cattivi di quello che sono per scoprire qual è il danno massimo potrebbe causare un tal virus sono tipi di sperimentazioni sono vietate in quasi tutto il mondo civile sono vietate negli stati uniti sono vietate in europa ovviamente anche in italia e sono sperimentazioni definite allo stesso oms delle diciamo altamente pericolose e eticamente simili alle sperimentazioni facevano i medici nazisti nei campi di concentramento allora d'asta che è quest'uomo qui e questo d'asta che al al comando dell'equip di scienziati di questa organizzazione di questa di questa fondazione che statunitense si chiama eco health alliance e d'asta che faceva esperimenti sul sulla sars sui coronavirus nel laboratorio di wuhan quindi franco si è il maggiore sospettato questo dazak diciamo di avere combinato il danno se c'è stato danno da quell'ambulatorio è uno dei non il ma uno dei maggiori sospettati sì e il fatto che lui dica non vi fidate dell'intelligenza americana può dipendere dal fatto che invece l'intelligenza americana certe cose le ha capite e me questo è una cosa molto curiosa perché d'asta clamora per l'intelligenza americana e d'asta che è stato mandato lì da da fauci dal consigliere scientifico della casa bianca non di trump ma di tutti i presidenti degli stati uniti a partire a ronald reagan quindi da 40 anni a questa parte e del probabilmente lo scienziato più influente più potente che ci siano gli stati uniti ed è il braccio destro la casa bianca cioè fauci non fa nulla se non è d'accordo la casa bianca quindi è un po curiosa diciamo questa posizione d'assac probabilmente d'assac non vuole che si scopri nulla di quello che accade dentro quel laboratorio ma sono in tanti che non vogliono si scopri si scopra nulla dopodiché io non ho idea perché finché non usciranno delle prove se effettivamente quel laboratorio è responsabile della pandemia attuale oppure no non lo so ci sono diciamo l'oms non lo esclude neanche cioè dice estremamente improbabile però neanche loro hanno il coraggio di dire impossibile perché non esistono prove né in un senso né nell'altro le uniche prove le potrebbero fare se l'oms facesse veramente un'indagine seria dentro quel laboratorio e se alcuni dei protagonisti decisero di parlare anche fuori dal laboratorio perché non è solo una questione di laboratorio quindi quel laboratorio lì era semplicemente un luogo un luogo in cui tanti soggetti sparsi per il mondo statunitensi in prima linea sperimentavano cose che non si dovevano sperimentare quindi sono in tanti a non voler far luce su quanto è accaduto senti ma i cinesi che motivo avevano di permettere a un gruppo di scienziati americani legati all'intelligenza americana di fare queste operazioni così pericolose sul proprio territorio anche questa è un apparente incongruenza questa è una cosa che ancora per me continua non avere senso è una cosa che non ha senso perché un laboratorio di p4 quindi a livello militare diciamo poi bisogna ancora capire perché non esistono nemmeno prove che quel laboratorio sia stato fosse un laboratorio militare c'è chi dice che era un laboratorio anche militare chi no ma indipendente da questo sono quelli quei luoghi di estrema sicurezza dove c'è il segreto nazionale cioè se ci fosse in italia un laboratorio del genere non potrebbero entrare nemmeno gli scienziati francesi in un laboratorio del genere che è un paese europeo alleato dell'italia figurarsi scienziati di un di una potenza diciamo nemica come la cina rispetto agli stati uniti e viceversa quindi è già assurdo questo innanzitutto in questo laboratorio c'è una solidità di base ovvero questo laboratorio è stato creato dai francesi è già una cosa che non ha senso perché la francia notoriamente non è alleata alla cina è un laboratorio costruito da francesi dopodiché finanziato agli americani e con dentro non solo gli scienziati americani ma anche membri del dipartimento di stato il ministero degli esteri degli stati uniti ed è diciamo l'organo di controllo della cia quindi sostanzialmente la cia stava dentro quel laboratorio ufficialmente non di nascosto c'è lo so aspetta franco che è importante questo concetto c'è dentro il laboratorio di one comandavano ci mettevano le mani uomini della cia questo è sicuro questo è un dato di fare ci sono i rapporti non è una cosa segreta è una cosa pubblica e questo la cosa folle è questa qui c'è gli stati uniti quindi il laboratorio di one in cina era gestito da uomini della cia questo è mister di non solo da loro ma anche da loro certo credibile questa cosa dico e xi jinping può non sapere quello che succede lì ma è evidente che non che lo sapeva cioè una cosa del genere è come se in un silos di missi nucleari americani avessero chiamato gli scienziati cinesi è evidente che non poter non possono avere accesso a un silos di missi nucleari non solo gli scienziati cinesi ma gli scienziati cinesi del servizio segreto cinese o del servizio militari cinesi cioè è una cosa che non è possibile in natura non so come dire eppure è accaduta e quindi è questo la cosa più strana è esattamente questa cioè che cosa ci facessero gli americani e cinesi insieme di quel tipo di americani quel tipo di cinesi in un posto del genere e su questo esistono non è una congettura ci sono i rapporti cioè questi che facevano rapporto gli americani facevano rapporto al dipartimento di stato lamentandosi peraltro il fatto che questo laboratorio fosse insicuro ci sono dei rapporti trimestrali mandati da vucana al dipartimento di stato dove spiegavano le condizioni del laboratorio vucana quindi è veramente è una storia di quelle da quasi da film distopico di fantascienza c'è una cosa che non ha senso non ha né capo né coda questa storia ecco proviamo a fare a mettere insieme i fili anche se il mainstream queste operazioni diciamo logiche le chiama complottismo ecco facciamo finta che questa operazione sia riservita per davvero per avviare questo grande reset questo grande reset è stato proposto e pianificato da uomini di davos come schwab ci hanno scritto un libro con prefazione di el can dove si si chiede diciamo di passare ad un nuovo modello gli uomini di davos hanno incoronato tempo fa xi jinping come nuovo garante del mondo che verrà ecco tutto questo se lo testa insieme in teoria sì in teoria un senso incomincia una cosa un discorso del genere può dare un senso logico a quello che appena detto non esistono prove però non lo so se si fanno congetture una cosa del genere però congetture un senso logico dobbiamo trovarlo a quello che accade d'altronde se non è senso logico che in cina comandino la cia dentro un laboratorio pericoloso come quello cioè questo non ha senso logico no infatti questa storia è totalmente insensata quello che tu hai appena detto può dare un senso alla storia però potrebbero anche esserci altre chiavi di lettura ecco però sai che non bisogna pensare perché chi pensa oggi è complottista chi chiede chi crede invece alla fede al dogma è una persona seria quindi insomma io sono d'accordo con te però distinguere supposizioni dalla realtà sì sì no certo poi si va sempre si comincia pensando e poi si cercano riscontri sì è una supposizione che potrebbe avere un senso potrebbe essere anche la realtà ma non è necessariamente la realtà però se non si indaga mai in quella direzione magari non ci si arriva mai alla verità infatti sto facendo un libro apposta per cercare di capire cosa dirà in questo libro quali sono gli elementi che ti fanno che insomma che faranno da apri pista a questo tuo nuovo lavoro allora il fatto che questi ci sono degli elementi degli scienziati scusate militari americani che stanno che hanno che da tempo stanno lavorando alla modificazione di questo coronavirus e lo stanno facendo insieme agli scienziati militari cinesi che lo stanno facendo da molto tempo il fatto che improvvisamente a ottobre a metà di ottobre dello scorso anno di due anni fa scusate ragionavo come se fosse il 2020 metà di ottobre di due anni fa improvvisamente c'è stato un allarme dentro il laboratorio di Wuhan allarme che non ho capito perché con tutte le informazioni che hanno circolato in questo anno da tutti i medi del mondo non è mai stato segnalato cioè il laboratorio di Wuhan è stato chiuso per due settimane e tutta la zona circostante è stata chiusa per due settimane queste due settimane hanno coinciso con i giochi mondiali militari che sono svolti a Wuhan che hanno portato lì 10.000 atleti di 120 paesi del mondo compresi 240 atleti italiani e che potrebbe essere veramente stato l'inizio dell'inizio serio della pandemia e racconto di come questa eco health alliance sia legata a molte case farmaceutiche di come questi di come loro stessero facendo le ricerche su vaccini che riguardavano il coronavirus si sta parlando di cose di qualche anno fa quindi questo spiegherebbe anche come mai sono stati trovati i vaccini con questa celerità insomma si racconta una serie di cose la parte che che non ho ancora approfondito nel senso che sto approfondendo su cui ancora non ho le idee chiarissime è tutta la parte che invece riguarda la finanza ovvero come dietro questa eco health alliance che una sorta di mostro che non dovrebbe esserci nel mondo dovrebbero essere vietate fondazioni del genere dietro questa eco health alliance ci sono tutta una sei soggetti tra cui la fia stessa oltre a i colossi di wall street allora quello che sto cercando di capire è come questi colossi di wall street potrebbero aver interagito con quanto successo a wuhan è un tema molto interessante senti giusto visto che ormai stiamo cercando di mettere un sacco di carne sul fuoco vediamo se riusciamo a inserire pure mario draghi dentro questo racconto l'arrivo di quest'uomo insomma del garante della finanza apolite americana prevalentemente ma non solo in italia al potere adesso con un'operazione così rapida così veloce se potessi incastra bene dentro tutti questi scenari che stiamo dipingendo ha un perché anche questo che ancora non vediamo no non lo so nel senso che devo ancora è una cosa che sto elaborando sto cercando di capire il senso di draghi in questo momento in italia al di là del fatto che si debbano gestire si debba gestire una storia di questo paese e per dare un senso alla gestione di queste risorse può dare un può dare un senso al futuro che avrà l'italia e io credo che ovviamente il futuro di una delle principali potenze mondiali si interessa i tanti e mario draghi potrebbe potrebbe metto il condizionale perché non ho certezze potrebbe essere l'uomo giusto per farle gestire una certa direzione piuttosto che un'altra e quindi dare un futuro all'italia dare un futuro a tutti i soggetti che si vogliono vogliono mettere le mani sul patrimonio italiano ecco la prima cosa che sembra voler fare draghi è riposizionare la geopolitica nel nostro paese parla in continuazione di asse europeista ed atlantico ecco le sbandate filoginesi del movimento 5 stelle sono archiviate non lo so perché parlare in questo momento il governo draghi aspetterei qualche giorno non abbiamo la più pallida idea la più pallida idea di quello che sarà questo governo non si conosce il programma non si conoscono con i ministri non si conosce la maggioranza che lo comporrà è un po complicato dire quello che sarà un governo che non si conosce potrebbe essere tutto il controllo di tutto io aspetterei almeno domenica o lunedì per poter allora diamoci appuntamento alla settimana prossima per un approfondimento specifico quando ormai le carte saranno sul tavolo torniamo per un attimo a one tu prima dicevi dietro questa ong si intravedono i soliti colossi finanziari questa eco health alliance ci sono anche le grandi industrie delle multinazioni del farmaco dietro questo ong per caso si ce ne sono alcune ad esempio un paio di multinazionali tedeschi c'è la johnson johnson ci sono ci sono una serie di di la glaxo ci sono una serie di di multinazionali del farmaco del vaccino certo quindi paradossalmente se il danno l'avessero fatto loro questi sarebbero riusciti a trovare a fare sì il danno e poi trovare la cura al danno fatto da loro stessi ecco questo sempre come ipotesi sarebbe geniale come operazione paradossalmente sì senti questa campagna terroristica intorno ai vaccini come la trovi tu franco insomma ti sembra che stia esagerando un po è tutto normale in che senso campagna terroristica contro il vaccino cioè questa necessità di bombardare continuamente sul bisogno di arrivare al 70 per cento per avere l'immunità di greggio se no non torneremo mai alla normalità cioè ti sembra una narrazione un po forzata oppure normale rispetto alla gravità del pericolo come dico sempre quando si parla di cose mediche io non ci capisco nulla quindi mi rimetto semplicemente a quello che dicono i medici scienziati non credo che se posso dire come la penso credo che non sappiano nemmeno loro quello che serva esattamente perché c'è chi dice a seconda del vaccino quel vaccino serve l'immunità del 70 per cento quell'altro l'ottanta quell'altro 60 quell'altro 85 e quell'altro dice che non serve a niente perché tanto arriverà una variante che bypasserà tutti quanti i vaccini quindi francamente anche qui ma in cina sai cosa succede adesso perché di cina non si parla più è finita l'emergenza sono a posto sai qual è la situazione lì no a quanto pare è tutto più o meno tranquillo anche se ci sono dei piccoli focolai però a quanto pare avere delle informazioni certe quando si parla di cina è una cosa un po' complicata però sei un esperto anche di mondo russo sai invece lì in russia com'è la situazione in russia è molto più tranquilla il vaccino sputnik a quanto pare funziona io ho molti amici russi tra l'altro diciamo da questo punto di vista insospettabili perché non sono certo non sono elettori di putin quindi non è gente che creda alla propaganda anzi molto critica eccetera eccetera nonostante questo dicono noi la stiamo superando insomma c'è un tasso di mortalità molto basso e il vaccino funziona e quindi la russia sta tornando alla normalità bene insomma abbiamo capito che tante cose sono in movimento franco alcune non si possono immediatamente capire almeno non abbiamo elementi per dire con certezza quello che sta capitando di sicuro possiamo dire però con certezza che questo scienziato da azac che oggi ha puntato il dito contro l'intelligence americana è una figura chiave che ci può sicuramente aiutare a insomma indagando questa figura si potrebbe certamente capire di più intorno a quello che è accaduto e secondo te non è casuale che il suo nome sia venuto fuori esattamente è una delle figure chiave di tutta questa vicenda non è l'unico ma è una delle figure chiare ma il suo rapporto con Fauci è molto forte ci dicevi prima eh sì è stato Fauci a mandarlo a Wuhan con l'arrivo di Biden secondo te è cambiato qualcosa cioè paradossalmente sembra che con l'arrivo di Biden le notizie vere stiano venendo fuori come se prima con Trump alla Casa Bianca venissero tenute sott'acqua in maniera artificiale per non dare argomenti a chi stava prima lì e adesso con un uomo loro paradossalmente le notizie anziché essere più coperte vengono fuori con maggiore velocità e questo Biden è costretto ogni giorno a dire che anche lui proseguirà la lotta contro la Cina ehm come origine i media statunitensi i media statunitensi sono molti di questi sono non esattamente controllati però diciamo che sono tendono a seguire indicazioni che vengono dalla politica americana e quindi visto che Stati Uniti e Cina sono due strani creature sono due una sorta di fratelli che si odiano insomma hanno bisogno l'uno dell'altro però soprattutto gli Stati Uniti devono per motivi ideologici e per motivi pratici economici cercano di tenere sempre la Cina in continua tensione come il loro rapporto con la Cina come se dovesse essere sempre messo in discussione e così via e quindi molte delle informazioni che trapelano hanno hanno diciamo gli ho fatto la tara perché sono informazioni di pura propaganda quindi questa è la prima operazione che va fatta c'era fortissima propaganda sotto Trump che ovviamente ha preso di mira la Cina non fosse altro per togliersi molte delle attenzioni che erano focalizzate su di lui e continua a esserci con Biden perché Biden per quanto ha detto vuole normalizzare i suoi rapporti con la Cina è sempre il Presidente degli Stati Uniti e quindi deve sempre tenere un certo atteggiamento quello che vorrei dire che una delle cose che sto scoprendo che non mi dovrebbe nemmeno sorprendere che però insomma diciamo che danno idea di quello che potrebbe essere successo dal punto di vista dell'informazione è che ho scoperto che alcuni personaggi legati a questo Echo e Health Alliance e a molte delle informazioni sono andato a ricercare le fonti di molte informazioni uscite su Wuhan è uscito ovviamente di tutto le informazioni anche più surreali che riguardano Wuhan hanno come fonte una serie di soggetti con un altro tipo di organizzazione che fa capo a Steve Bannon Steve Bannon è un personaggio che è noto anche in Italia perché insomma è legato in qualche modo alla Melonia Salvini ma insomma era l'uomo che ha portato il Trump alla Casa Bianca quindi anche lì bisogna aspetta che voglio capire meglio sto passaggio cioè tu stai dicendo tante delle notizie che vengono fuori sulla realtà di Wuhan che sono venute fuori sì negli ultimi ecco vengono fuori da dei centri di intelligence che fanno capo a Steve Bannon esattamente ora Steve Bannon sappiamo che profilo ha diciamo è un profilo molto particolare però quindi tu dici lui lui potrebbe anche avere interesse a fare filtrare delle notizie che non sono vere ma verosimili per motivazioni che noi non possiamo non cogliere questa è la tua chiave esattamente quindi bisogna fare molto attenzione e fra queste notizie che secondo te possono essere verosimili ma non vere ce n'è qualcuna in particolare che ti ha stupito allora quello che hanno cercato di fare gli Stati Uniti fin dall'inizio è allontanare il sospetto da loro cercando di concentrare tutto quanto il sospetto sulla Cina evidentemente il virus arriva dalla Cina su questo non ci piove però una cosa che arriva dalla Cina semplicemente perché un pipistrello ha morso qualcuno che so io cosa diversa se arriva dalla Cina attraverso un laboratorio e magari anche in maniera dolosa allora molte delle notizie filtrate fino adesso tendono a spingere l'informazione in questa direzione e quando se uno va a risalire è un lungo percorso se uno va a risalire la corrente di queste delle fonti di queste informazioni molte di queste provengono diciamo molto semplificando da Steve Bannon Franco ti faccio un'ultima domanda ma il Presidente la nomenclatura comunista cinese non avrebbe tutto l'interesse a dire guardate che il laboratorio di Wana lo gestivate voi americani con uomini CIA insomma tutte le immagini di una cosa del genere i cinesi la Cina uno deve entrare sempre nella mentalità dei vari popoli dei vari di chi li governa cioè i cinesi sono convinti di essere il centro del mondo il paese più importante del mondo le persone più intelligenti del mondo e quelli più bravi di tutti immaginate il leader che ha quasi un aspetto diciamo di semidio in Cina dice guardate che gli americani gestivano il nostro laboratorio di massima sicurezza non cioè tu dici non ci fa una bella figura ecco però non lo farebbe mai cioè è proprio fuori dal mondo la cosa non lo farebbe mai probabilmente verrebbe esautorato dal poliburo come cavolo si chiama cinese nel giro di pochi giorni insomma non è una cosa immissibile da parte dei cinesi ecco però insomma aspettiamo di leggere il tuo libro sui misteri di Wuhan nel frattempo abbiamo messo a fuoco dei tasselli molto importanti cioè stiamo cercando di ricostruire con i mezzi che abbiamo quello che è potuto accadere anche perché il giornalismo mainstream un giorno dice che è il pangolino un giorno dice che è il pipistrello oggi che è l'uomo di collegamento nascosto tra il pipistrello e la specie umana dell'uomo sapiens sapiens una volta è il surgelato quindi non so se l'hanno trovato in qualche bastoncino Findus insomma ora non so naturalmente i complottisti ne siamo noi quelli che non vogliamo metterci noi in confronto con questi grandi scienziati di Repubblica però per carità fanno di tutto per rendersi ridicoli eppure si spacciano per responsabili ma hai pure tu l'impressione che questi ormai hanno perso il senso del limite questi del giornalismo cosiddetto ufficiale non ce l'hanno mai avuto o quanto meno negli ultimi anni diciamo che hanno per me non esiste io lo dico sempre non esiste la parola complottista è una parolaccia non esistono i complottisti non esiste il giornalismo ma esiste semplicemente il buon giornalismo e il cattivo giornalismo che può essere fatto dal entrambe le cose dal New York Times come dal più sfigato blogger che ci sia in un paese ma perché mi hai guardato a me quando hai detto più sfigato blogger no no ma che sto scherzando ma che sto scherzando però insomma non ha esiste le notizie vanno verificate ma ha cercato bisogna scoprire devono avere un senso devono deve avere un senso anche il contorno non solo la notizia in se stesso perché ci sono molte notizie false o verosimili che sono verosimili proprio perché hanno magari sono più o meno vere però se uno le mette in un contesto diventano veramente inverosimili uno deve controllare deve avere idea dell'informazione che dà e spesso non si dà per ignoranza incapacità pigrizia o c'è anche il dolo insomma ecco anche un po' di malafete comunque sul Repubblica di oggi non c'è solo questo pezzo importante sull'OMS ce n'è anche uno dove si spiega che osservando la capigliatura di Draghi capiremo come operera quindi insomma tu mi sembri un po' stempiato sei un po' meglio di me ecco però già i giornalisti di Repubblica guardando la tua di Chioma un altro articolo potrebbero farlo con me è più difficile grazie Franco per essere stati con noi ciao bene cari amici di Vox Italia TV si conclude qui un nostro nuovo approfondimento come vedete insomma il sistema informativo cosiddetto prevalente cerca di di mischiare le cose senza seguire mai un filo logico lanciano una serie di notizie poi il giorno dopo smentiscono le notizie che hanno dato il giorno prima però loro si sono auto assegnati il compito di unici sacerdoti che conoscono la verità e generosamente ogni tanto ce ne fanno conoscere un pezzetto ecco noi continuiamo il nostro lavoro di resistenza informativa soltanto grazie all'aiuto vostro potete aiutarci tramite Bonifico tramite Paypal non vendiamo mascherine non abbiamo inviati nel laboratorio di One non facciamo esperimenti viviamo solo grazie alla generosità di chi ci guarda e ci apprezza se volete darci un po' di respiro a proposito di problemi polmonari potete abbonarvi sul nostro sito www.voxitaliatv.com arrivati a 2000 abbonati e sostenitori fissi potremo dire che la nostra scommessa è vinta resteremo insieme per ancora molto tempo ecco non vi preoccupate non è una minaccia è una promessa grazie alla prossima grazie a tutti